In questa serie di video studiamo Flexbox. Possiamo tradurre Flexbox come scatola flessibile. Il problema di quando creiamo i nostri layout CSS è come disporre correttamente gli elementi all'interno della pagina, scoperta ovviamente dell'acqua calda. Dobbiamo ad esempio creare la barra del menu, con a sinistra le voci di menu e a destra magari l'icona per effettuare una ricerca e per effettuare login all'area riservata. Oppure vogliamo rendere responsive degli elementi mentre lasciare a dimensione fissa altri elementi. Oppure vogliamo allineare verticalmente gli elementi figli all'interno dell'elemento padre. Flexbox ci aiuta in tutto questo, ovvero a disporre in modo semplice gli elementi proprio come vogliamo. Ad esempio abbiamo uno div padre e tre div figli. Sappiamo che la natura del div è l'essere un elemento a livello di blocco, cioè un div di base occupa l'intero spazio orizzontale del suo contenitore. Quindi un altro div o anche un elemento a livello di linea si posizionerà per forza di cose su una riga diversa. Se noi invece vogliamo affiancare i tre div figli e vogliamo distanziarli in un certo modo, riusciamo ad esempio a farlo in pochi secondi con Flexbox. L'idea di base di Flexbox è quella di avere un elemento padre contenitore con gli elementi figli che in automatico diventano flessibili, ovvero facilmente posizionabili rispetto al contenitore stesso e anche tra loro. Immaginiamo, nella vita reale, di avere una scatola magica. Tutti gli oggetti che inseriamo all'interno di questa scatola magica diventano flessibili. Il fatto di diventare flessibili è certamente un aiuto alla disposizione degli oggetti all'interno della scatola. E non solo diventano flessibili, ma se questa scatola magica ha la possibilità di espandersi o contrarsi, possiamo fare in modo che gli oggetti a loro volta si espandano e si contraggano di conseguenza o meno. Sono d'accordo, è sicuramente meglio iniziare a fare qualche esempio. Allora, creiamo un div contenitore. Facciamo div, cancelletto, contenitore. Quindi creiamo una div con id contenitore. Creiamo tre elementi div figli. Quindi facciamo div. Scriviamo qualcosa all'interno del div. Ad esempio, blocco, dollaro. E facciamo per tre per creare in automatico tre div. Perfetto, se ora salviamo, abbiamo ovviamente i nostri div uno di seguito l'altro. Ma diamo uno stile di base al div contenitore e ai div figli. Quindi andiamo all'interno di stile.css. Facciamo div, cancelletto, contenitore. Diamo ad esempio un padding di 15 pixel. E diamo un bordo di 4 pixel. Solid, red. E per quanto riguarda gli elementi figli, facciamo div, cancelletto, contenitore. Div. Diamo semplicemente uno sfondo, un grigio chiaro. Quindi facciamo background color. Cancelletto, tre volte di. E diamo anche un abordo di un pixel. Solid. Cancelletto, 333. Perfetto. Salviamo ed aggiorniamo. Ed abbiamo il nostro contenitore e all'interno i figli, i tre div. Vediamo che questa scatola, ovvero il contenitore esterno, quindi il div esterno, non è ancora magico. Dato che gli elementi all'interno non sono flessibili, ma sono ancora rigidi. Quindi, come facciamo a fare in modo di far diventare questo contenitore, questa scatola magica? Quindi, come facciamo a far lavorare questo contenitore con Flexbox? Semplicemente aggiungiamo la proprietà display, a cui assegniamo il valore flex. Salviamo ed aggiorniamo. Perfetto, vediamo che senza effettuare alcuna operazione sui div figli, i div figli sono diventati flessibili. Quindi hanno perso quella rigidità di base del div. E infatti sono disposti uno di fianco l'altro. Possiamo ad esempio distanziare questi elementi figli in modo molto semplice con Flexbox. Per farlo utilizziamo la proprietà justify content e possiamo ad esempio utilizzare space around oppure space between. Facciamo space around, salviamo, aggiorniamo. Perfetto, vediamo che abbiamo distanziato i tre elementi oppure possiamo utilizzare space between. In questo caso abbiamo lo stesso spazio tra questi due elementi, tra questi due e anche tra questo elemento e il primo div. Diamo un'altezza al contenitore. Facciamo height, proviamo con 250 pixel, salviamo ed aggiorniamo. E vediamo che di base i nostri elementi sono anche diciamo responsive, quindi in base all'altezza del contenitore si adattano in automatico. Molto bene, per quanto riguarda l'introduzione Flexbox ci fermiamo qui. Ovviamente se volete sempre un like, una condivisione o anche un commento mi farebbero molto piacere. Grazie a tutti e a presto.